Il Festival Nazionale dedicato al Rap Underground, ovvero l'Underfest, e l'etichetta musicale Glory Hall festeggiano dieci anni dalla loro nascita, con un live sulla spiaggia di Marina di Ravenna pieno di artisti e volti noti della scena, e dove, per l'occasione, quest'anno si è esibito anche un pesarese. Il suo nome è Filippo D'Ambrosio, in arte Phil Coy, che con le sue rime ha aperto la prima serata del Festival. È stata una giornata indescrivibile, che ho sempre sognato, perché è sempre stato il mio sogno, entrare in Glory Hall, vivere queste emozioni con questi artisti, Claver, Murbutu, Sgravo, DJ Faskat e tutti gli altri, Modder, ovviamente, Phil Coy. È stata indescrivibile, perché dieci anni di Glory Hall, farne parte mi inorgoglisce tantissimo, in più sono stato il primo, perché sono il più giovane, la nuova leva, l'ultimo ad arrivare, l'ultimo entrato, e quindi mi hanno fatto giustamente iniziare a me l'apertura, mi hanno fatto aprire a me la serata, è stata una cosa che ho sempre sognato, non vedo l'ora di rifare una cosa simile. Sono sempre rimasto tra gli emergenti, perché ho aperto, e diciamo che ho avuto la mia esibizione, ho fatto cinque pezzi, e dopo di me si sono scambiati tutti gli altri grandi veterani della Glory Hall, che sono lì da dieci, quindici anni, dipende chi, però insomma sì. Ieri mi sono sentito un emergente per aver fatto l'apertura in questa maniera, però mi sono sentito un emergente privilegiato, perché comunque fare l'apertura da Glory Hall è stata una cosa bellissima. Phil Coy racconta poi di come sia nato l'Underfest e di ciò che ha portato l'evento ad essere una manifestazione di rilievo nel panorama rap nazionale. È un festival che nasce da un'idea di Modder, e tutti i ragazzi del CISIM con cui collabora Modder, dieci anni fa, perché infatti ieri è stata la decima edizione, l'inizio della decima edizione, che durerà fino al 27 di luglio. È praticamente un festival che si incentra sul rap underground in Italia, quindi ogni anno, oltre però a incentrarsi sul rap underground, si incentra anche sugli emergenti. Quindi ogni anno Modder dalla prima edizione l'ha pensata come una sorta di faccio più serate, quindi un festival, ogni serata chiama un main o due main a fare la serata principale, ma prima dei main faccio dei sci-fi con i ragazzi emergenti da tutta Italia, così che do possibilità a loro di emergere, e in più c'è il main artist che comunque fa la sua serata e sono tutti contenti, insomma, è una figata.